è oltremodo necessario fare ordine qui oggi come vi avevo promesso un po di tempo fa ci ritroviamo oggi qui a distanza di 4 anni per il secondo video del clattering delle borse in realtà è una mia necessità perché avete visto all'inizio del video in che condizioni era il mobile delle borse perché ora non è più le borse sono tutte giù era necessario fare questa cosa e quindi mi sono detta perché non farci un video ora è da dicembre del 2020 che non faccio ordine nell'armadio delle borse sono passati 4 anni come vi dicevo eravamo nel pieno della pandemia e tante borse le ho conservate perché non si sapeva poi come sarebbe andata a riprendere della vita oggi devo essere molto cattiva urge fare molto spazio quindi dovrò essere cattiva e qualche testa che non era caduta allora cadrà oggi assolutamente i miei metodi per decidere saranno assolutamente prendere come riferimento proprio i 4 anni fa il 2020 e dirmi io questa borsa in questi 4 anni l'ho usata se non l'ho usata andrà via non c'è mai che tenga poi però voglio tenere da conto anche perché questa cosa mi è venuta guardandole mentre le tiravo giù ci sono alcune borse che mi danno sentimenti negativi per tanti motivi e credo che andranno via altra precisazione da fare io durante il video dirò tengo o butto ma non è detto che quello che vi dico che butto poi lo butterò realmente a differenza del video di 4 anni fa in cui vi avevo detto che non avrei venduto le borse può darsi che qualcuna la venderò perché questa volta ci sono borse migliori che sicuramente andranno via ma devo capire come fare perché non le voglio mettere in medita su Vinted perché vi dico la verità io su Vinted non mi trovo più tanto bene ho venduto delle cose con velocità e facilità però poi dopo è diventato un troppo tira 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 sul prezzo allora io già le cose le metto in vendita a un prezzo degente se poi dobbiamo fare so dire molla mi scoccio quindi non lo so non lo so che farò vedremo è questo e quindi adesso possiamo partire io oggi non mi sono nemmeno sistemata ho il trucco che avevo stamattina quando sono uscita ho deciso di non rifare nulla di non sistemare i miei capelli non mi sono neppure cambiata perché io sono realmente in fase di pulizia e quindi era inutile facciamo finta che sia un vlog però è un video in sostante e dire di partire subito ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video parto da due borse che sicuramente resteranno qui con me che non ho mai avuto intenzione di vendere né giammai l'avrò anche perché sono dei veri e propri investimenti ormai cioè se io vado a vedere il prezzo a cui costavano quando le ho ricevute il regalo e il prezzo a cui costano oggi sono diventate davvero un investimento non ho mai capito il perché ma sto parlando delle Louis Vuitton uno è il bauletto questo è lo speedy 30 se non ricordo male che mi è stato regalato dalla mia famiglia per i 30 anni al quale io ho aggiunto vergognosamente una tracolla che non c'entra niente col bauletto come vi dissi quattro anni fa finché non avevo la tracolla non l'avevo quasi mai usato invece adesso lo uso molto spesso altra di questo anche se non lo avessi usato non l'avrei mai venduto non si vende non si rivende un bauletto Louis Vuitton assolutamente no stessa cosa dicasi per questa che adesso vado ad aprire e vi faccio vedere questa la tengo conservata davvero come un cimelio perché è stato un regalo di mia c'è anche la garanzia dentro è stato un regalo di mia sorella ve l'avevo già detto quattro anni fa ma ci sono tante persone nuove quindi vale la pena di ripeterlo me l'ha comprato quando me l'ha regalata quando ha preso il suo primo stipendio non la uso mai non la uso mai perché in realtà adesso forse potrei iniziare ad usarla perché non portando più i doppi occhiali come facevo visto che ora sono i progressivi almeno la sera quando esco o per un aperitivo o qualcosa del genere potrei iniziare potrei iniziare ad usarla in realtà perché sì lo smartphone c'entra le chiavi di casa porta carte per portare i soldi credo che inizierò ad usarla ma ho anche paura di farlo perché questo è un attimo che te la rubano e tu non te ne accorgi comunque me la metterò sicuramente in un posto dove sarà più in vista per ricordarmi di utilizzarla perché è davvero un peccato non utilizzare questa anche perché mi pare che questa qui non è più in vendita nel senso che c'è ma è diversa in questo modo non mi pare che l'ultima volta che ho dato uno sguardo al sito di Louis Vuitton non ci fosse più ed è un peccato insomma tenerla ferma quindi credo che mi forzerò di utilizzarla ma comunque non sarebbe stata una borsa che poteva andare via cioè non l'ho talmente utilizzata che guardate non si è nemmeno scurito questo sapete che alle Louis Vuitton questi si scuriscono diventano molto più scuri questo è ancora chiaro e ce lo dà ben più di dieci anni questa borsa andiamo avanti questa volta la volta scorsa avevo fatto due video quello delle borse grandi e quello delle borse piccole vorrei evitare questa cosa e fare un unico video questa volta qui ne ho due che andranno via sicuramente questa c'era anche la volta scorsa e vi avevo detto che mi piaceva tanto e che non volevo darla via ma che c'era questo rotto adesso dato che questo rotto continua ad esserci e io non ho mai mai avuto modo di andarlo a cambiare di cercarne uno per cambiarlo anche perché la borsa adesso per quelle che sono le mie esigenze è diventata troppo piccola io vedrete che ho tutte borse piccole quelle poche grandi che ho me ne libererò però questa è davvero troppo piccola e quindi le possiamo dire bye bye stessa cosa dicasi per questa semplicemente perché questa non mi piace per niente e quindi proprio non mi piace più quando l'ho comprata mi era piaciuta tanto ma adesso non mi piace più quindi sicuramente questa andrà via anche se era una borsa di bassissimo costo davvero basso costo che però sembrava una borsa buona cioè la vedete sembra una borsa buona però questa va via facciamo che quelle che vanno via le metto qui ma mi sa che c'è poco spazio qui per mettercele sto facendo caso al fatto che la maggior parte delle borse che ho e che vedrete mi sono state regalate da mia sorella o c'entrava mia sorella in qualche modo questa qui è una borsa di carpisa che mi è stata regalata a natale di qualche anno fa 2021 forse o proprio quello del 2020 non mi ricordo comunque questa è l'unica credo vedremo è una è una borsa grande che tengo perché comunque una me la voglio tenere grande perché non si sa mai certe volte per esempio quando so che andrò a fare shopping al centro commerciale che è che potrei mettere cose dentro la borsa che compro me la porto dietro e non porto la piccola quindi una grande la voglio tenere e sicuramente questa perché mi piace ve l'ho detto è una borsa di carpisa sì ve l'avevo detto è morbida è leggera c'è la tracolla che vuoi di più da una borsa questa la teniamo e la metto qui un'altra borsa che tengo sicuramente che avevate già visto nello scorso video è questa di pomikaki questa color carta da zucchero va ripulita perché è davvero schifosa però è una borsa che come vi dissi quattro anni fa dopo quattro anni il mio parere non cambia mi piace esattamente come quando l'ho comprata è carinissima questa primavera l'ho usata spesso non spessissimo ma spesso perché quando ne hai tante e quando sei una acquisco a cambiare borsa è un guaio però l'ho usata spesso quindi questa resta con me adesso le do una bella pulita poi la mettono nella sua dust bag poi la riprenderemo a primavera questa invece è una borsa bellissima ve lo dissi anche quattro anni fa ma è una di quelle che in questi quattro anni non ho usato nemmeno una volta quindi è arrivato il momento di darla via assolutamente se ne va ed è questa qui borsa che mi era stata regalata per i miei quarant'anni bellissima cioè guardate quanto è bella dentro però io queste borse grandi e rigide proprio non me le faccio scendere non mi piacciono quindi questa è un'altra borsa che se ne andrà e adesso tenetevi pronti perché c'è una serie di tagliamenti di test le ho già tutte preparate qui perché così faccio anche più veloce il video se no poi diventa molto molto lungo quindi me le sono preparate qui e sono tutte borse che vanno via semplicemente perché negli ultimi 4 anni non le ho mai usate addirittura questa questa che non ho capito perché mi sono impuntata a comprarmela perché me la sono comprata io questa qui non l'ho mai 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 usata non mi è mai venuto in testa di usarla e quindi mi dispiace tantissimo ma mi dispiace perché ho speso soldi che potevo evitare di spendere ma questa se ne va poi questa 4 anni fa mi dissi che l'avevo comprata per un matrimonio che l'avevo usata solo quel matrimonio ma un matrimonio di tantissimi anni fa da 4 anni ad oggi non l'ho mai utilizzata è troppo piccola troppo quindi questa la salutiamo bye bye questa borsa si potrebbe chiamare tranquillamente scarlet per il colore questa la diamo via come darò via anche se mi piace ma si è fatta un po' brutta e comunque in questi 4 anni non l'ho mai utilizzata quindi va via anche lei vi ricordate o c'era anche nello scorso video va via come va via anche questa la volta scorsa erano due di colori diversi una fucsia è questa quella fucsia l'avevo buttata perché si era ridotta proprio male questa è arrivato il momento anche se sono un po' indecisa però io in questi 4 anni non l'ho mai utilizzata però è una bella borsa sono un po' indecisa pausa di riflessione per questa ma ci rifletto anche perché non occupa tanto spazio poverina potrei continuare a tenerla pausa di riflessione non lo so aspetta ce n'è un'altra qui questa stesso discorso mi è stata regalata l'ho usata una volta sola da quando mi è stata regalata e quindi andrà via in effetti ve la dovrei far vedere pure questa qui è una borsa di piazza italia seppure sformata a tenerla sempre ferma lì questa se ne va questa no non mi piace cioè non sono mai riuscita ad abbinarla col mio modo di vestire non sono mai riuscita ad usarla quindi via anche lei altra borsa che andrà via assolutamente vi giuro quando l'ho presa mi piaceva tantissimo davvero tantissimo è stata comprata sulla spiaggia questa borsa adesso non mi piace proprio più proprio zero si cambia nella vita sono anni che non la utilizzo più sto parlando di questa è anche una borsa abbastanza capiente poi però non mi piace più ho borse più belle che ho più piacere di usare quindi questa la diamo via sta diventando molto alto questo quest'angolo delle borse che vanno via anzi ho lasciato la Louis Vuitton fatemela spostare se non si schiaccia poi ancora anche questo andrà via mi pare che l'avessi comprato l'anno scorso ed ero convinta e l'ho anche usato però uno io con lo zainetto non mi trovo due l'ho usato a scuola di danza però non mi dà questi laccetti qui per quello che mi porta a scuola di danza cioè la borraccia la sta per fare i video e quindi la borsa diventa un po' pesante non mi dà sicurezza e quindi poi dopo un po' di volte non l'ho più utilizzato adesso ho lo zainetto di adidas che ovviamente non farà parte di questo decluttering perché è sempre attivo me lo porto sempre a scuola quindi è inutile adesso che ho quello questo lo posso dare via adesso è la volta di due borse molto molto simili una non andrà via sicuramente perché ci ho fatto anche l'ultimo cosa c'è nella mia borsa che abbia fatto e sto parlando della Kipling questa me la tengo perché la uso tantissimo l'altra è molto simile ma è stata comprata dai cinesi ed è questa allora questa io la tengo ma appena mamma si decide a tornare da casa al mare perché si mia madre è ancora a casa al mare la darò a lei per farmela lavare nella sua lavatrice perché della mia non mi fido la sua c'è la gentrifuga che si può scegliere la forza e questa va fatta con la gentrifuga leggerissima l'ho già fatto mamma quindi so che nella sua lavatrice si può fare quindi questa la tengo assolutamente non appena mamma torna dal mare la facciamo lavare questa non lo so non lo so potrebbe essere una borsa comoda da tenere ma se ho già quella che me ne faccio di questa poi questa mi ricordo un momento brutto questa la do via mi è venuto in mente il momento brutto la do via sto usando un po' di metodo mi ricondo in questo in questo decluttering adesso è la volta di questa questa ha una storia che va avanti dal 2020 quando feci l'altro video perché nello scorso video vi dissi che non l'avevo mai utilizzata e che mi sarei forzata di farlo l'ho fatto l'ho utilizzata per molto tempo però in realtà continuo ad essere un tipo di borsa che non mi piace se a questa aggiungiamo che adesso questa borsa mi ricorda persone che non voglio ricordare con le quali non voglio avere più niente a che fare questa borsa va via questa qui invece ne sta con me perché è la borsa che più di tutte mi porto quando esco la sera quando vado alle serate quando vado a ballare perché sembrerebbe che non sia capiente ma invece lo è e si abbina spesso a tutto quello che mi metto perché mi vesto sempre di nero ma è una borsa che se scelgo gli accessori oro ci sta bene scelgo gli accessori argento ci sta bene quindi questa proprio no questa resta con me è mia non può andare via adesso è la volta di due borse che hanno un anno di vita sono uguali e sono le due borse che mi erano state regalate al compleanno l'anno scorso ora questa resta con me non c'è nessuna ombra di dubbio perché me l'ha regalata Chiara perché quando decido di usare questa borsa se devo scegliere fra l'una e l'altra scelgo sempre questa quindi questa resta con me e non c'è nessuna ombra di dubbio per quanto riguarda questa invece stesso discorso per quella che ho buttato prima mi dà brutte sensazioni brutte vibes non la scelgo mai quando devo scegliere fra l'una e l'altra però mi dispiace tantissimo di sfarmene perché è una borsa buona perché è una borsa costosa profuma di pelle e quindi proprio davvero non so che fare e quindi per ora me la tengo in forza me la tengo in pausa di riflessione come l'altra di prima altre gemelline è la volta delle due emiche estenberg queste assolutamente no queste restano perché le uso le uso tantissimo mi piacciono sono borse costose va ripulita soprattutto questa questa non tanto questa sembra più però queste restano con me assolutamente devo dire che stiamo procedendo abbastanza spediti vi faccio vedere è rimasto solo questo qui vedete sto andando molto spedita sono brava sto evitando di perdermi in troppe parole adesso vi faccio vedere una borsetta nera piccolina molto carina comprata da H&M me l'ha regalata Francesco l'ho voluta tantissimo mi piace da impazzire ma l'ho usata davvero pochissimo questo perché avevo il doppio paio di occhiali e qua non mi c'entrava niente poi da quando io adesso ho i progressivi da maggio quindi è da maggio che non ho più il doppio paio di occhiali ma me ne ero completamente dimenticata di questa cioè io questa me la potevo portare quest'estate in giro anche se non ci sarebbe entrato il ventaglio però adesso che mi sono ricordata che c'è ecco perché va fatto l'ordine nelle borse ogni tanto adesso che mi sono ricordata che c'è farò di tutto per usarla perché mi piace davvero tanto quindi questa avete capito assolutamente non si butta questa è la borsa che ho comprato per il battesimo di Chiara ed è una borsa al battesimo l'ho usata senza la tracolla perché si può togliere ecco era così praticamente al battesimo non guardate la tracolla era così l'ho usata in questo modo poi però mettendo la tracolla l'ho usata tantissimo quindi non va assolutamente via è una borsa che si abbina a tanti outfit sia del giorno che più o meno della sera quindi questa qua resta è una borsa di pitta rosso questa è la clutch la borsa che ho comprato per il matrimonio in Puglia e questa resta perché è una di quelle borse che ti tieni che può sempre scapparci la gerimonia non sai mai cosa metterti quindi la tieni poi è nuova l'ho usata una volta sola è capiente perché mi c'è entrato tutto quello che mi ci doveva entrare quel giorno quindi assolutamente questa la tengo adesso arriva una borsetta piccina carina bella che si era salvata la volta scorsa ma questa volta non si salverà assolutamente e sto parlando di questa che più che una borsa è un portafogli che non userei mai come portafogli perché è troppo grande usate le borsette se io uso questa posso usare questo come portafogli no assolutamente quindi non l'ho mai usata in questi quattro anni l'avevo salvata la volta scorsa adesso va via mi dispiace ma devo essere dura come sto facendo la torre si sta alzando la prossima borsetta che vi faccio vedere è una borsa che vi dico già che andrà via perché in questi in questi quattro anni non l'ho mai utilizzata perché si rompe spesso ma andrà via e si porterà via un pezzetto di me se andate a riguardare il vecchio video vedrete che vi ho detto che questa borsa mi ha accompagnata tantissimo mi piaceva da impazzire mi piace ancora da impazzire però se continua a rompersi e comunque io non la utilizzo che me la tengo a fare in casa sto parlando di questa la borsetta da cerimonia in raso con le rose è bellissima continuo a dire che è bellissima con quest'anima un po' vintage che purtroppo però vedete è rotta quindi ti saluto mia cara abbiamo fatto insieme tante feste tante cerimonie ma adesso senza troppa tristezza è arrivato il momento di separarci poi c'è questa borsetta piccola che non ho mai 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 utilizzato non so perché l'avevo presa con soldi questa è un'altra delle borse di mia sorella quella volta però mi aveva regalato dei soldi e la borsa me l'ero andata a comprare io insieme a quella rosa questa qui però non l'ho mai utilizzata quindi va via senza colpo perire proprio va via e basta questa è tipo quadrillo non ve l'ho fatta poco vedere rigida piccina però proprio non mi piace più quindi ciao e adesso c'è una borsa che in realtà avrei anche utilizzato un po' non molto ma l'ho utilizzata perché era un po' scomoda in realtà che è bellissima ma vedete è una borsa bellissima un po' scomoda ma bella ma è arrivato il momento di buttarla questa andrà proprio buttata perché si sta sgretolando non avete idea di cosa c'è qui e quindi è arrivato il momento di darla via raga ridendo e scherzando senza fare troppi senza essere troppo lunga credo siamo arrivati siamo arrivati alla fine ho finito sono queste le borse e diciamo che adesso faccio la brava adesso faccio i conti vi dico quante borse sto dando via anzi prima le conto perché altrimenti qua il video resta troppo lungo conto le borse che do via e vi dico allora calcolando che voi in questo video non l'avete vista ma c'è l'ultima borsa nuova che ho ricevuto per il compleanno che è di là è in uso quindi voi non l'avete vista ho fatto praticamente quasi la perfezione perché 14 borse stanno andando via 12 restano con me 2 sono in forse sono queste qua ma per ora le tengo più la borsa nuova abbiamo fatto quasi un 50 e 50 ho ripicciolito la mia collezione di borse del 50% sono stata bravissima aspettate che mi do una bacca sulla spalla è inutile tenere tutte queste cose in casa prendere polvere è proprio inutile adesso stesso discorso ma adesso faccio passare un po' di tempo ma stesso discorso lo devo fare per le scarpe perché è un altro manicomio comunque l'anta l'ultima vedete l'ultima dell'armadio è un manicomio batteria scarica ce l'ho fatta giusto in tempo io spero come al solito di avermi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto se siete passati da qui lasciatevi queste emoji per questo video è tutto se vi va ci vediamo al prossimo video vi mando un grosso bacio ciao ciao